eccoci qua per un video in cui facciamo il punto sulle prossime uscite sulle serie tv che vedremo ad ottobre dei ritorni delle cose nuove un video in collaborazione anche con gli amici di non solo punto tv che saluto oltre a salutare i miei amici del canale ed allora non ci perdiamo in chiacchiere voi sempre vi raccomando carta e penna per segnare queste news e cominciamo goliath stagione 3 genere drammatico giudiziario 4 ottobre 2019 su amazon prime video l'avvocato billy mcbride un tempo rinomato legale fondatore dello studio coperman mcbride è sempre in rovina lasciato dalla moglie michelle vive in motel vicino alla costa passa il suo tempo in un bar costantemente ubriaco quando però riveste i panni dell'avvocato ed abbraccia la causa giusta per riaccendersi lo fa alla grande 1994 terza stagione genere drammatico in onda su sky dal 4 ottobre 2019 dramma politico e sociale ambientato durante i primi anni 90 in italia raccontato attraverso i punti di vista di sei persone comuni la cui vita si intreccia con il terremoto politico civile del costume innescato dalla max inchiesta mani pulite the walking dead stagione 10 genere drammatico horror da 7 ottobre 2019 su fox dramma apocalittico su un devastante virus che ha sterminato l'umanità trasformando la faccia del pianeta la storia segue le disavventure di un gruppo di sopravvissuti alle orde di zombie che dilagano doom patrol prima stagione generazione fantastico dal 7 ottobre 2019 su amazon prime video comic series appartenente all'universo dc racconta le avventure di uno scienziato idealista e del suo gruppo di supereroi composto da elementi emarginati che posseggono poteri sovrumani succession stagione 2 genere drammatico dal 9 ottobre 2019 su sky atlantic il dramma segue le vicende della famiglia roi logan e i suoi quattro figli controllano uno dei più imponenti conglomerati di mass media ed intrattenimento del mondo quando logan comincia a tirarsi indietro dalla direzione della compagnia a causa dell'età che avanza vediamo cosa accade nella vita e nel futuro dei suoi erevi baby stagione 2 genere team drama dal 18 ottobre 2019 su net la storia è liberamente ispirata ai fatti di cronaca del 2014 e allo scandalo delle baby squillo di roma racconto di formazione segue le esperienze di alcuni teenager italiani tra amori proibiti segreti e pressioni familiari modern love prima stagione commedia romantica dal 18 ottobre 2019 su amazon prime video la serie è ispirata a eventi reali illustrati in una colonna del famoso quotidiano new york times ed esplora l'amore le relazioni umane e le connessioni che ne scaturiscono living with yourself prima stagione genere commedia dal 18 ottobre 2019 su net vogliamo davvero essere migliori a chiederselo e mai interpretato da paul rad il protagonista della storia che si ritrova improvvisamente ferito dall'amore e deluso dalla vita per questo motivo l'uomo pensa bene di sottoporsi a una misteriosa cura per migliorare se stesso e la sua intera esistenza deduce terza stagione final season genere drammatico in costume dal 24 ottobre 2019 su sky atlantic la serie drammatica è ambientata nell'era di times square tra gli anni 70 e 80 quando la prostituzione e la pornografia erano ai massimi livelli a new york segue gli eventi che hanno portato alla legalizzazione del settore dell'intrattenimento per adulti oltre all'emergere del dramma dell'aids e della diffusione della cocaina penny wears prima stagione generazione crime drammatico dal 25 ottobre 2019 su stars play la storia di alfred penny wears ex agente delle forze speciali che vive a londra e lavora per il padre di bruce way il padre di quello che sarà poi il famigerato batman che lo avrà al suo servizio come maggiordomo il metodo cominsky stagione 2 genere drammatico dal 25 ottobre 2019 su netflix la serie racconta la storia di sandy cominsky un attore che anni addietro ha avuto una breve carriera di successo ed ora è un venerato maestro di recitazione di olio america horror story 1984 stagione 9 genere horror antologico dal 31 ottobre 2019 su fox in questa stagione un gruppo di ragazzi passerà l'estate in un campo estivo tutti loro avranno a che fare con un misterioso assassino incappucciato che tenterà di eliminarli uno dopo l'altro è stata una carrellata lunga intensa però quanti titoli e quanti titoli in uscita ad ottobre avete segnato tutto mi auguro di sì vi chiedo anche di iscrivervi al canale di attivare la campanella per le notifiche video se volete mi potete trovare anche su facebook e su instagram sempre come spacciatore seriale io saluto anche gli amici di non solo punto tv a cui do appuntamento al prossimo mese per le prossime uscite e vi abbraccio tutti affettuosamente ciao